Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video sta succedendo un fatto riguardo all'aggiornamento Windows 11 versione 24 h2 per quelli che hanno avuto problemi soprattutto sui SSD Western Digital tipo che esce una schermata blu del BSOD vuol dire che ogni volta che fai qualcosa al tuo computer ti esce una schermata blu proprio per colpa di questi aggiornamenti di Windows 11 24 h2 quindi in questo caso la Microsoft sta cercando di stoppare tutti questi aggiornamenti e quindi nel frattempo noi possiamo risolvere il problema andando sull'editor del registro di sistema per risolvere questo problema della schermata blu soprattutto su questi SSD se hai un SSD proprio Western Digital tipo questi SSD qua perché anche io ho avuto in passato un SSD del genere avevo anche io questi problemi di schermata blu eccetera quindi possiamo risolvere il problema andando direttamente sull'editor del registro di sistema quindi andiamo un attimo su editor quindi vai su editor del registro di sistema e fai esegui come amministratore una volta eseguito come amministratore vai direttamente nella cartella hk local machine vai su system scendi fino a giù fino a trovare current control set service scendi fino a giù fino a trovare la cartella nella fila della lettera S che si chiama stornvmi vai su device una volta andato su device qua sopra fai nuovo valore di word 32 bit crei così un nuovo valore e lo chiami hmb allocation policy proprio così scritto in questo modo ci clicchiamo sopra dati valore metti 0 e fai ok una volta fatto devi riavviare il sistema se invece riscontri dei problemi anche con questo valore puoi semplicemente eliminare così questo valore e riavviare di nuovo il computer per ora l'errore del BSOD possiamo risolverlo in questo modo finché poi la Microsoft non rilascerà nuovi aggiornamenti su Windows 11 quindi se hai altri problemi puoi commentare sotto al video se hai problemi con gli aggiornamenti su Windows 11 ci sono le guide in alto nelle schede quindi grazie a tutti per questa visione noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao